Allora l'ansia di prestazione è una paura sostanzialmente di avere una difficoltà in ambito lavorativo, scolastico, relazionale, sessuale e sportivo. La prova chi ritiene assolutamente indispensabile il successo o il raggiungimento di un obiettivo in tutte queste situazioni e si manifesta quando la pressione, le aspettative dei risultati nei confronti di una determinata situazione causano uno stress psicofisico eccessivo e dannoso. Ecco questa sensazione si può manifestare in diversi ambiti della propria vita, fin dalla più giovane età, come accade ad esempio a molti studenti durante la propria carriera scolastica o a certi sportivi o a tutte le persone che in qualche modo sentono tantissimo la tensione, la pressione per dover riuscire in quello che è la prova, l'esame o semplicemente la situazione che nella quale loro si sentono in qualche modo messi alla prova. Allora tra le possibili cause di questo disturbo possiamo trovare innanzitutto la bassa autostima, e qui dipende molto dalla propria famiglia, dipende molto da come i propri genitori, le figure significative nella propria vita hanno sostenuto quello che possiamo dire l'amore proprio, il credere in se stessi. Un'altra causa è la rigidità, molte persone ad esempio hanno delle aspettative che potremmo dire di perfezione, di dover riuscire bene, perfettamente in ciò che fanno quando, a parte che la perfezione non esiste su questa terra, ma avere dei riferimenti ricidi in termini di prestazione è qualche cosa che evidentemente non è realistico e quindi li metti in difficoltà. Poi dipende molto anche dallo stile di vita, dell'approccio alla vita potremmo dire ansiogeno, quindi una tendenza ansiosa ad affrontare ogni situazione, chiamiamola ansia anticipatoria, per cui quando io ho qualche cosa che percepisco come minaccioso, chiaramente la mia tensione si alza molto, la mia ansia si alza, per cui nell'affrontare qualche cosa che viene percepito come prova difficile, magari insormontabile, o nella quale in qualche modo si andrà molto probabilmente a fallire, secondo le aspettative della persona, cresce evidentemente questo livello di ansia. Poi uno scarso senso di autoefficacia e quindi quelle persone che hanno un pessimismo già, come dire, anche cosmico a volte, per cui dice io non ce la farò, nella mia vita ho sempre fallito, in qualche modo andrò a sbagliare e a fare qualche pasticcio. Infine una tendenza all'ipercontrollo, quindi tutte quelle persone che si strapreparano, vogliono sapere chi c'è, arrivano sempre molto in anticipo, dipende insomma evidentemente di cosa stiamo parlando, ma in qualche modo cercano di avere tutto sotto controllo, altra cosa che evidentemente non è possibile, per cui la persona si autocondanna già a mettersi a quantomeno grave difficoltà evidentemente, è impossibile controllare tutto. Allora, questa condizione, se non è trattata appropriatamente, può sfociare in diverse patologie, a parte l'ansia in sé che quando è molto alta, molto forte, evidentemente può portare ad avere dei timori molto forti come gli attacchi di panico, le ossessioni, i pensieri intrusivi, quindi si viene tormentati, non si riesce a dormire, si pensa ripetutamente a quello che è il compito, l'esame, è una situazione che si deve affrontare successivamente, la fobia sociale, quindi essere rinunciatari, evitare, scappare, cercare in qualche modo di fuggire, evitare appunto quello che si percepisce come qualche cosa di minaccioso, insuperabile. Poi ci sono tutti i sintomi fisici, quindi l'eccessiva sudorazione, tremori, mani e piedi freddi per esempio, tachicardie, nausea, difficoltà a comunicare, respiro corto, fannoso, vampate di calore, quindi al contrario, l'aumento della pressione, la pressione sanguigna, inibizioni, per esempio quando si parla di prestazione, di ansia di prestazione in ambito sessuale, inibizione all'orgasmo o difficoltà al rapporto sessuale, una diminuzione della libido, sia nell'uomo che nella donna, per l'uomo la disfunzione rettile e l'eacolazione precoce o anche ritardata, mentre invece per le donne l'anorgasmia, la dispaurenia, il disturbo dell'eccitazione sostanzialmente, ecco questi direi sono i sintomi principali. Allora, facciamo la premessa, l'ansia in realtà è normale, quindi noi attribuiamo un significato negativo all'ansia, ma qui il problema non è se c'è o non c'è l'ansia, che ci sia ansia non solo è normale, ma è anche positivo, auspicabile, il problema è l'intensità, quanta ansia ogni persona ha, e per quanto tempo. Quindi direi che l'ansia è un strumento adattivo, potremmo dire, che ci permette quindi di prepararci ad affrontare degli eventi o delle situazioni che il singolo soggetto percepisce come minacciose o pericolose. Quindi se è presente nelle giuste quantità ci permette di attivare una serie di meccanismi che rendono la nostra mente più vigile e reattiva all'ambiente esterno, aiutandoci così a trovare con maggiore facilità le soluzioni necessarie, anche nei casi in cui il contesto diventa particolarmente avverso. Quindi l'ansia può avere diversi livelli di intensità, si va da uno stato in cui l'ansia è nulla, quasi nulla, fino a uno stato in cui diventa eccessiva. Se è quasi nulla anche c'è da preoccuparsi in realtà, perché molto probabilmente non si andrà a affrontare il compito la prestazione appunto in modo sufficientemente soddisfacente. Quindi sta a ogni singolo soggetto trovare il livello ottimale, quindi questo è il reale problema, quindi trovare il livello ottimale di ansia per se stessi, in modo da renderla realmente utile e funzionale per lo svolgimento delle proprie attività, senza che sfoci in ansia appunto da prestazione, o quanto meno prestazione anzi è eccessiva potremmo dire, la prestazione. Abbiamo già parlato quindi dei sintomi quando quindi ogni persona prova una sudorazione eccessiva, tachicardia, palpitazioni, difficoltà a concentrarsi, problemi di memoria, sensazioni di mancamento fisico, tremori, tensione muscolare, secchezza della bocca, nausea, respiro fannoso. Ecco direi con una cadenza che va da due o tre episodi in un mese, arrivando nei casi più gravi, a presentarsi quotidianamente, per più volte al giorno. Direi che è patologica se si potrà nel tempo, potremmo dire circa 5-6 mesi. Quando comincia ad andare così lunga, allora c'è qualcosa che veramente non va, entriamo in un territorio patologico diciamo. Quindi solitamente la quotizzazione dei sintomi avviene in concomitanza con l'avvicinarsi dell'evento, della situazione, che il soggetto identifica come difficile ad affrontare e nei cui confronti ha sviluppato un timore elevato per un eventuale successo o falimento. Allora, direi che l'approccio più consigliato per sconfiggere l'ansia è duplice. Quindi innanzitutto è necessario concentrarsi sulle cose che si possono controllare. Sembra una banalità, ma in realtà se io penso intensamente a qualche cosa che mi aspetta, non ci dormo la notte, continuo a pensarci insistentemente, non cambierò assolutamente nulla. Quindi quella prova, quell'esame, quella prestazione in realtà sarà esattamente la stessa e non posso comunque riuscire a controllare il comportamento degli altri, ad esempio. Quindi è inutile pensare a ciò che sfugge dal proprio controllo. Questo causa solamente ansia, maggiore ansia, e un dispendio di energie che potrebbe essere impiegato invece in modo più utile. Quindi vivere in uno stato d'ansia e in particolare quando è una situazione di ansia continua, certo è faticoso e stancante, dato che lavorare con la preoccupazione di non farcela assorbe enormi energie mentali e fisiche, creando però solo ulteriori ostacoli al raggiungimento degli obiettivi. Sicuramente la psicoterapia cognitivo-comportamentale, l'approccio a cui faccio riferimento, ha come obiettivo il raggiungimento di un adeguato adattamento dell'individuo all'ambiente mediante tecniche comportamentali e tecniche di ristrutturazione cognitiva. Quindi la terapia cognitivo-comportamentale prevede un lavoro sulle aspettative e sugli schemi cognitivi disfunzionali e la conseguente ristrutturazione. Quindi sul piano comportamentale prevede l'esposizione graduale in vivo, ad esempio, o per immaginazione, al fine di contrastare l'evitamento e generare risposte alternative più funzionali. L'esposizione spesso viene associata a tecniche di rilassamento. La psicoterapia comunque certo non è l'unico metodo, quindi il primo consiglio che mi sentirei di dare è quello di imparare a respirare, quindi regolarizzare il battito, poi sarebbe opportuno cambiare la propria routine matutina, fare attenzione a ciò che si mangia, dormire meglio, ridurre l'introduzione alla sera di carboidrati e zupperi cattivi, chiamiamoli, quindi è fondamentale parlare, quindi non farsi soprafare delle paure, farle saltare fuori e chiacchierando con qualche amico, parenti, quindi quando ci si sente di non essere in grado di farcela da soli, è bene parlarne con un amico, una persona cara, questo aiuta, perché una carezza virtuale o fisica è spesso la cura più efficace in queste situazioni. Quindi direi in conclusione è bene non dimenticarsi mai che nella propria vita ci deve essere sempre un letto fine, quindi questi momenti di ansia sono solo delle prove, dei momenti passeggeri, che aiuteranno ad acquisire maggiore consapevolezza in se stessi, quindi sulle proprie possibilità per se stessi nel mondo che ci circonda, quindi imparare a gestire l'ansia da prestazione è fondamentale per avere successo nel lavoro, ma comunque soprattutto nella vita. Grazie. 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 Grazie.